Sì, sinceramente io volevo che Dimoulin venisse a giocare di oggi. In mei miei sogni erano di arrivare al podio. È possibile. Ok. Però le tue qualità a cronometro sono indiscusse. Sicuramente è una specialità nella quale ti esprimi molto bene. Il nostro senzino è molto lungo. E cosa ti rispondi? Un'altra questa resta è la prima, la 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 la. Questo è la prima questa che io ne accenduto. Non mi senti mai panni, non mi sono molto. E la prima la domanda è la prima cosa. Domani ci metterà tutto il massimo possibile per fare un buon risultato.